Scandala la reazione a catena. I 3D denari sono stati eliminati dopo oltre 35 puntate più di 400.000 euro vinti. La loro eliminazione ha generato una valanga di tweet di protesta, alcuni molto divertenti, per aver perso uno dei gruppi più bravi di questa trasmissione. Secondo il pubblico, le domande poste ai ragazzi erano molto più difficili rispetto a quelle proposte alle tre avversarie e le caffeine. Ecco le parole proposte ai campioni. Fenomenologia, alienazione, meditabondo, mentre quelle per le sfidanti erano nero, bianco, sole. Se non è malafede, questa, voi che ne pensate?